C'è Divaio sulla direttrice, Fabiano si accentra, palla su Divaio, ancora Fabiano, chiuso fallosamente, posizione per il Genoa, si dispera Caserta. Un'altra grande occasione perché lo specialista è sempre Leon. Leon, c'è anche Bobo dalle parti del pallone, ma Leon è la soluzione più probabile. Tutto il Palermo a difesa della propria area di rigore, ci sono Divaio e Borriello dalle parti del dischetto con Marco Rossi. Parte Leon, 1-1, Leon e stavolta Fontana non ci arriva. L'avevo detto, questo è un grande specialista, è stato bravissimo, Fontana non ha potuto fare niente, non era colpevole di niente perché... Grazie, ha arrabbiato molto Giuseppe, voglio poi rivedere perché Fontana è andato subito ad arrabbiarsi con la barriera. Sì, la barriera però, lui non poteva fare niente, il tiro era perfetto, guardate qua. E non ce l'ha a fare, il tiro bellissimo. Bellissimo, Leon trova finalmente al punto di vista del Genoa, il gol cercato in pratica per tutta la partita. Stavolta Fontana non ha potuto nulla, rivediamo dall'angolo di Fontana. Grazie. Grazie.